Ci mette una pezza Prova la soluzione in fascia Pallone dentro Intercetta il passaggio, pericolo Cerca l'uomo là davanti E l'arbitro chiude qui la partita Il risultato che rispecchia una splendida prestazione Vanno a raccogliere l'applauso Da parte dei loro tifosi Applauso tra l'altro, meritatissimo Qual è la tua analisi di questa gara Luca? Hanno costretto subito l'avversario di inseguire E questo sappiamo quanto conta Dal punto di vista fisico e mentale Sono stati bravi a sfruttare il vantaggio E conservarlo fino in fondo Non ci resta che salutare i telespettatori E ringraziarli per averci seguito fin qui Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani C licence Questo sappiamo Delđertino Vedo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.